Ho da farvi una confessione, ed è una lettera aperta che voglio fare a Daniele, al mio amico Daniele. Daniele, tu sei il mio preferito. Se un amico che mi ha sempre fatto ridere, è uno dei grossi motivi per cui me ne andai da casa, forse quello principale, eri tu. A me fa schifo litigare con la gente, ma litigare con te mi fa vomitare. Quando è successo, il ban, sappiamo tutti quello che è successo, ma nessuno sa quello che io e Daniele abbiamo vissuto fra di noi a casa. Era davvero difficile dire è colpa tua, è colpa tua, è colpa nostra, è colpa degli altri, è colpa di Mr. V. Chi lo sa, sta di fatto che è stato così difficile, soprattutto per me e soprattutto per gli ultimi momenti della casa, è stato veramente difficile fare i conti col fatto che la persona più divertente di tutta la mia vita era anche quella che era stata più inculata da se stessa, dagli eventi. Inutile parlarne adesso, è successo, è affatto male a lui, ha fatto male a me. Siamo diventati due veri ritardati da quel punto di vista, non insultando i ritardati, ma veramente. Ci ha rincoglionito come cosa. Siamo diventati più scemi, ma proprio a livello medico. E le ultime cose che erano successe, il mood che si era creato fra di noi, per me era imperativo al di là di cambiare casa e quindi avvicinarmi alla mia maturità, al mio cercare un adulto in me che ancora non era uscito ancora, merda, era facile da dire, era anche salvaguardare quella che era l'amicizia più bella che io avessi mai trovato prima. È terrificante, è stupido, ti giuro, Daniele, sentire e ammettere queste cose solo dopo che me ne vado, ma ahimè, era anche la mia missione, cercare di ritrovare l'amore perduto, non per colpa nostra, verso veramente l'unico uomo che io abbia mai amato nella mia vita all'infuori di mio fratello, che sei tu e lo sei stato abbastanza fin dagli inizi, ne abbiamo passate davvero tante e anche se sei un figlio di buttana e tutte le merdate che mi hai fatto, neanche te le ricordi e se te le dico tu ti giustifichi perché sei un ribelle, bullo, gay, e anche se io ti ho fatto altrettante cose, quando penso a te, neanche quando ti vedo, non riesco a pensare a tutte queste brutte cose, ma penso solo al mio amico che tutt'oggi, dopo tanti anni di mille cose successe fra di noi, quando faccio una battuta, ride in quella maniera là, come il rapace corvo nero che sei. Ti voglio bene e ti voglio dire che l'unico motivo per cui non ho fatto abbastanza nei momenti dove invece dovevo farlo era perché la soffrivo tanto anch'io e lo so che è ridicolo per me dirlo visto che tu spesso sei stato il protagonista di molti mali che ci sono capitati, ma stavo male anch'io. Io come sai sono gay e nel senso brutto dell'essere gay, affiatarsi troppo a dei sentimenti abbastanza da renderli così importanti che ti rendono cieco e io sento veramente di aver provato vero amore per te e nonostante io ti abbia smerdato con tanta gente, lo sai sono una comare, lo sai non voglio nasconderlo, io andavo da Martina e ti smerdavo, poi ti guardavo in faccia e dicevo oh no è questo l'amore tossico di cui tutti parlano, assurdo lo sto vivendo con il mio amico Daniele perché ti amo e odio non amarti, odio non amarti e tutte le volte in cui ti odiavo e tu mi davi giusti motivi per non farlo e io pure a te quando lo facevi tu con me facevano schifo. E questo soprattutto Daniele ma anche ragazzi perché quanto poco può uscire di vero delle persone anche quando si fanno tante live. Una delle mie difficoltà estreme della mia vita professionale con voi è stato che Diocane non potevo parlarne di nessuno di questa cosa qua mia e di Daniele perché tutti hanno sempre visto la coppia, tutti hanno sempre visto la coppia dei due amici pazzerelli, wow quello caga nella pizza e quello è così sfortunato. Ogni volta che io volevo parlare con voi di quello che era, eravamo io e Daniele, non potevo. Io ero in trappola, non so Daniele come la viveva ma io ero in trappola, volevo tanto dire alla gente ragazzi non siamo la coppia dei migliori amici che avete in mente perché a volte io voglio tagliargli la cola a questa persona e l'unico motivo per cui non lo faccio è perché spesso mi sento in colpa, spesso penso sia io il problema e quando poi mi sono aperto con Daniele, lui si è aperto con me, ho scoperto che lui era la stessa cosa che si punisce, Daniele è un autodistruttivo, stronzo, più simili in realtà di quello che poteva sembrare ma è stato difficile non poterne parlare con nessuno, è stato difficile non poterne parlare con la chat ed è stato impossibile non poterne parlare con lui perché? Perché c'era un amore tossico dietro ma comunque amore io non vedevo Daniele da tanto e io pure non lo vedevo da tanto ma ogni singola volta che lo vedo mi stupisce nel vederlo sempre un po' più maturo di quello che era prima che ho sempre pensato fosse una cosa mia della vita e invece l'ho ritrovata in tante persone i miei migliori amici soprattutto e lui non è da meno, anzi è il più gli voglio bene e spero che dopo tutto questo merdaio che è successo e che è arrivato pure a farmi andare via con tutti i vantaggi, cioè mi serviva proprio a farlo al di là di me e Daniele possiamo ritrovarci a far ridere, stavolta però meglio di qualsiasi altro momento prima perché oltre tutti i meme e cose incredibili che abbiamo passato è stata la cosa più difficile della mia vita e non voglio neanche pensare a Daniele come l'ha vissuta perché io ero un riflesso di male cioè mi rifletteva, rifletteva a me il male e io stavo male lui non voglio neanche pensarci, è stato terribile, terribile, brutto la cosa peggiore della mia vita, è stata la cosa peggiore della mia vita neanche non poter fare live con lui perché l'hanno bannato ma volergli male quelle volte in cui lo volevo mai più mai più si deve parlare con i propri amici e ogni volta che io sento cose come questi qua drogati tipo no il mio ragazzo non non riuscivo ad abbandonarlo no la mia ragazza era una buttana mi picchiava no queste cose qua e tutti in chat dite no ma come si finisce in queste cose da pazzi io pure lo pensavo fino a quando non ho conosciuto Daniele e mi sono innamorato ma vi siete allontanati no ma mille volte durante la nostra amicizia anche se abbiamo una terrificante calamita che ci attrae noi possiamo allontanarci quanto cazzo vogliamo non esiste che stiamo lontani siamo destinati io penso di aver trovato la persona con cui sono destinato a ritrovarmi in seguito come nessun altro veramente ed è terrificante quando pensi al fatto che sarai anche costretto a ridicarci con questa persona ma è un po' questo il problema dell'amore quando lo senti tanto che non accetti il fatto che ci possano essere problemi e in più a noi non è che sono arrivati problemini ma merdate che non è giusto che arrivino in più a volte era pure colpa di altri vabbè questo è quello che volevo dirvi perché non l'ho mai detto in live la grande difficoltà che ho avuto a stare vicino a questa persona è a non far uscire l'adulto che era in me perché saremo anche degli autodistruttivi che ci diamo la colpa entrambi ma io l'ho portato a fare questo lavoro quindi anche se lui magari non accetta questo cosa che sto per dire ma io sentivo una certa responsabilità sono sempre stato più grande di lui e soprattutto lavoravo in queste cose qua era molto di più di quanto faceva lui eppure non sono stato in grado di difendere quella che era un'amicizia che lo sapevo fin dall'inizio sarebbe stata la migliore la migliore perciò mi dispiace mi scuso con tutti voi anche quando c'era della strana ambiguità fra in live fra di noi che però veniva estremamente coperta dal fatto che volent o nolente male o bene bastava avere noi due là e succedeva qualcosa di assurdo facciamo ridere perché noi ridiamo sempre assieme è una formula che già con mio fratello avevo scoperto funzionava già vent'anni fa quindi yes free sdrumox free polter guys quindi questo ci teniamo molto a dirvelo e spero metta anche e spero anche che i figli di buttana sotto stuvi possano capire questa cosa perché anche fra quelli più distanti dai sentimenti come fanno finta di essere i f word che seguono Daniele anche se alla fine sono gli stessi si sentiva che a volte c'era qualcosa e non andava ebbene era tutto questo ti voglio bene Daniele gli mando questo video telematico secondo me è giusto dirle anche in live queste cose perché voglio che lui le scopra così lui con me non vuole parlare di sentimenti mi dà del gay è stupido è gay lui è lui il vero gay i gay veri sono quelli che danno del gay agli altri forse o comunque e poi anche perché lo dovevo veramente a voi oggi pensavo merda è una di quelle cose di cui ho sempre parlato a tutti non in live però mai in live e io sarà che sono uno scemo persino il mio psicologo mi dice smettila però mi voglio davvero vendere e svendere a voi perché al di là del mio della mia incapacità nel dividere professione professione e me non non riesco a non essere me stesso in live se sto male lo notate se sto bene lo notate in più quello che faccio come carburante utilizza le mie emozioni ma come cazzo posso nascondervi le cose ma non esiste e lo so sarà da fottuti pazzi è da psicopatici sto discorso lo so lo so ma è una di quelle piccole cose che mi fa dire io sono nato per internet c'è qualcosa c'è un potere c'è una connessione qua dentro che ricerco in maniera sempre fallimentare fuori e se qui c'è minimo devo ricompensarla con il dare alla gente quello che dio cane sono anche nel male yes di più di più